e possiamo osservare due ricchioni che si inculano bravi no perchè lui voleva buttarmi giù e invece l'ho caricato io soffrò il rivolto dai porta qua a trebbia questo è quello che smonta se so incastrare quel 5 ma anche questo è per te vedi cosa ho cominciato gli operari poi sono io quello che fa danni porta a fare un giro turistico alla trebbia scherzare ovviamente poi sono io quello che fa danni questa è una prova che io non faccio danni ma si su farming non c'è danni si ma tanto è quella mia arrivo sempre non stai a fare i culatoni trebiate il campo se no vi inculio con la sabbia perchè c'è un coso capotato mania vergine va che roba cosa? è il tuo che fa il macello dove? è l'unica piera che c'era ecco perchè ho capito cosa c'entra la piera qua non ho capito non ho capito che c'era non ho capito che c'era la cosa dell'acqua qua non ho capito che c'era il macello non ho capito che c'era la porta non ho capito che c'era la porta non ho capito che c'era la porta ma cosa hai fatto a capottarlo? perchè mi sono affrontato con un bello e adesso non so più com'era sta bene e quando marco domani torna ti vestimi dietro quando sei? quando sei? no no alzata alzata dai veloce prima che prendi il T8 prima che arrivi sul campo devi chiudere il server vai mi domanda se non che sono ma se no fai allora finchè aspettiamo Dark finchè aspettiamo Dark facciamo cagare cagare siiii è il peso è il peso della JCB non lo so è sparito c'è più no metteria da parte forse la roba è separata infatti c'è scritto no la cena mod a parte che deve essere Black Sheep esatto direttivo e ora se vedi che non si è pistata ti vada comunque a parte quella puoi farti come la di Agostini in una nuova uscita ti fai portare un pezzo del chilo in Italia una roda un sergione un piston una bia un piston te lo metti come quella vedo che il blocco motore ti lo trai su la cabeza vabbè manco che sono toco il più grosso diretto tipo nooo dopo una volta almeno arriva un pistone una fascia elastica marco che tu capisci ho portato la ciappa i blocchi i motori del chilo in te puro e dopo il che fa rettifica anche nooo wow c'è basta c'è completa le fasce elastiche magari anche tutto tutto ogni singolo pistone entra e esce tutto completo rettificato fasce elastiche che madonna di dio ma non vuoi sapere quel colore che gli è fuori no 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 shhhhhh il lubrificante è marrone nooo nooo ma qua basta essere volgari tu hai detto nooo scandalo nooo scandalo scandalo ma hai detto sul campo 7 io andavo prendo la fresa riiii porco no 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 e tu va avanti quei bestie e mi immerangio con le cenette varie si se non mi stupro magari se non mi stupro che non non cioè non hai spiegato mi spiega benissimo prima puoi stare a team ah comunque c'è salvati no se lo prendi il rimorchio il carico di le ame con la città le elettribine al biogasso dopo cosa faccio quando dice lui non prima non dopo diciamo i tuzzi per il culo se scarichi il biogasso e il digestore perchè fermo il liquido del manure del digestore pace e netta dove si vende i bioni la soliti che bioni cioè mica ho da scaricarlo la soliti dove devi scaricare fuori il silo eh eh la si ma no trarlo fuori come il silo no eh perchè se non sappia i puni del deserto no attacca muovorsi e dico figlio il punto di vendita è sempre qui o no se vendi i bioni dovete vendi il silato o no si contanto di contanto di spinge e piramide ottimo ahahah ahahah eh senti eh eh niente ahahah come fare i trattamenti ahahah ahahah ecco ecco Christian non so non mi pare era giusto un momento che ero andato a biogasso no? perchè a un certo momento mi sono detto ma io ti non ti non sa mai dire che non ti hai ancora capito perchè si si il sabione no solo che nell'ultima parte stavo andando piano vedo vedo dei duni del deserto che inizia a leggermente a sfumarsi no no stavo so bene in giro praticamente no sull'ultima parte perchè stavo cercando di andare via stavo andando piano solo che ho messo in corto che non riuscivo a passare con la macchina mezz'ora ho tirato un'accelerata tanto ho visto che eravate girato invece che Christian era dovuto guardarmi e ve ho tirato un'accelerata con il chiro ho tirato un'accelerata ho tirato un'accelerata con il chiro tre volte mi sono andato in fiamma e ridere se sto serio no perchè è vero stavo andando in quella ora e ho tirato un'accelerata esatto tu Christian ieri tu incastrasti una scaglia si si questo tipo nuova a me quella è la macchina di casa ancora più potevo vedere così quando andò si mi sono in difficoltà in un attimo come si chiama il dolly dolly ea io io l'ho dici io 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 il io il marco il marco il marco e mi raccomando oggi i pezzetti che non si c'è per freddo questo mi piace capire perché qui con il PCS è questo che si tratta da più buono il carallo è stato stuprato, è cattiveria ma donna guarda che strano il massimo di tutto qui hai fatto il secondo nuovo, non è il nostro eh lo so ecco, esatto perché se... perché non vede, perché non vede che si tratta con Marcos Broca possiamo osservare una libere che sta stuprando un GCB eh, andamelo a me due che cagano, non lo parò eh non piano avemi militato falciare il prato fino, fino a erba non c'è niente di interessarti amico, eh non so se hai affari internazionali delle Pizze Mafia e Mandolino metto a posto il rimorio, via, da poter... beh, vede uno che sentì incruccarsi sul gioco di GCB mi fa dire che quasi metta il peso uno peso da chiare beh, mi fa... questo ultimo carico qua, dai... lo faccio che sia sshhhh 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 oh, ma sto fermando a te, non cazzo fai, fai, fai butta non fai, no, mi dici oh, no eh, c'è... chi è un... c'è un... c'è un... qua? c'è, c'è un... qua, c'è un... qua eh, eh, eh... il... 3000 ha c'è un... c'è un... orco che la macchina deve andare a ferme no, ah... eh, ah... eh... eh, eh... eh... eh, 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 eh... eh, che viene a scodare anche a sto ora da tutti chi mi ha... che non mi serve più e mi costa moltissimo ma che cazzo diota che è un migliabile 20 milioni di euro 19.749.264 che cazzo se questo Xenon io Xenon e adesso però perchè io ero montato i secondi prima un attimo che si chiamava il rimorchio insomma capi finito di stuprarvi? che cazzo finito? che cazzo finito di stuprarvi adesso devi dire che sei in casa cazzo finito di stuprarvi quel birucino o no in quel senso? se si torna peggio 8 ore di lavoro è serio? si che ha cavato il tuo sterzo e tu? andavo meglio con i rimorchi senza sterzo bravo che mi tonto forse non è il modo ideale esatto forse devo sbagliare quel coso no con idea vieni qua oh no ci sei detto casi è molto fruttante adesso vi aggiorno siccome hai preso qualcosa quando? liquori allora adesso siamo al 55% e abbiamo mezzo milione di litri ma quando? adesso no quando? adesso devi dirgli quando hai fatto sbattere nel culo lui sta zitto tranquillo tanto se sei potoso è sempre perchè quindi stai zite con tu aspro no no mi sono ancora in pisò quindi eh e tu e tu e tu possiamo osservare un DCB che pare un chimiche mi ti dà un bant almeno le foto che si 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 stai su le pang no però ci sarei adesso vengono col tiro su che nel ssd arriva sul buso eeeh vorrei che si stacca mi riesci il tuo caso se ti avessi messo col bgs invece i coglioni magari sarei tutto più semplice no per il vant ti vengono mettiammi adesso di la capota che ha manca eh ma è la sua eh ma la storia da ti arna c'è rata uè vai che ci abbiamo l'occasione troviamo un volta film più grande oh oh eh 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 mi ti mi ti eeeh e tu e e ti 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 d che vabbè che abosto no possiamo osservare il popino è il figliolo il papà che prende in braccio il figlio il papà è un po' ritardato il papà è un po' ritardato cosa è questa? non mi ha fatto il figlio ti trovo, no adesso i suoi giorni il popino è maltrato il figlio cosa hai detto? questo video sarà intitolato padre e figlio ah, vado da usare una sciapo sotto un muso comunque va via ben jj con falcettrici ancora è il jj ma che cacchio fai se uno jj con falcettrici vedo che ho un autore idrobuitrice e mi sono detto a rap che non lo capisco fermo la eh, puntati con la pala la, così, i punti vuol darvi ok no, però, però no, 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 no e beh, mi tolgo il gioco no, no, questo caso te do possiamo osservare un gcb e portare a spazio suo figlio papà, papà papà antiranchinatore no, 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 piano no, 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 piano si, no, 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 stuprarlo tuo figlio no, no no, no ok, la roda è bene dai, muoge a pompinare quel caso io fai bucchini perchè, se mi ho detto smontai da jjp di carico se monta no, mi voglio capire adesso perchè eri mai bello presi ritardato questo è una bruciata entro il cervello che ti sguardo no, se sta bello perchè che ti dico, questo smontate il jjp che ha venduto e potò monta ovviamente eh, mio come venduto, eh, ma intanto, eh, te che venduto stesso quindi si, come venduto dal shopping perchè eri una due lato papà, papà, ah no, papà, papà, non è più papà potò, ah, ti messo la zavora su jjp eh, no, perchè si l'ho messo io prima, l'ho messo io prima ecco, bravo, ho potuto potò anche parciare il ginnatore al campo su dio filmare i due esseri di dio fa cagare oh, ok, ok no, si boh, che sarà qualche problema ma, avanti è che c'è un problema va via a destra va via a destra va via a destra va via a destra eh, ma gira che sterzo eh, ma eh, ma eh oh, ma, 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 ma adesso HO HO NATIONABforza le disavventure o dvd yeah dai fasi i due amici per la pelle oh vai pai dai che vuole per la pelle non per le palle ma dimostri רtto perchè ci fai uno così modoni ah guardi che devo piena carità ma quando voltavate in pieno voltava tutto dove la savana lì che è in mese tutto vai stai laggando non ce l'hai fatto la mia no no non c'è una busa perchè ho fatto tre passare la stessa roba no 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 è venuto ahahahahahahahahahahahahahahahah diopo ehm io ero un sensore con l'angolo lì di più di più e che è vera che va via eh ok io stringo una fossita e non ho avviato tu non c'è naso dissi in quanto meggio di dire a quanto pare? io a che vuoi imbagliare? io sono Gino Oranghino cazzo madonna marco dio quel cazzo madonna mi mancai che è legale Dio ma sono Gino Oranghino ma c'è il treno o c'è il treno madonna se mercoledì non piove madonna se mercoledì metodo di giovedì non piove vero mercoledì è giovedì bene l'alleria di mattina a prima o dopo porco farà una settimana e cioè no, sei destinato oggi sto anno non si fa niente sui campi mi dispiace marco marco fare scendere a fare scendere sui campi no, no, aspettati basta, basta mancare guarda che ci si può più ecco, e marco venite in polonia ad assistere eh, intanto guardo a Federico eh, sei sotto registrazione ogni cosa cos'era vero è usata conto di te ecco dopo te caccia il segno della stima no, no, quello tolgo ovviamente guarda che carico aspetta che so' curioso f***a madonna, beh questo co' ho visto anche io prima eh ah ok ma non è legato è libero si si è libero e se è libero cosa succede? vediamo eh, se ti desligo ti desligo la faccia del buzo ora ho capito perché non lo stai legato perché se no la macchina tende è l'incro nativo che mai la scuoresa oh, ti non sento bene e ora vedremo il meteo di domani cosa che mette? no, 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 no i metti nuovi io comunque dai, eh, è sincro poi te vieni a cascata D'altore gli dai pacchetti dati da tutto il tiro Perchè che c'è il bcs qua davanti? Perchè il gama? Perchè siete bambini? Adesso mi monto il bcs Perchè? Se la so no? Il digestore Il digestato del biogas Grande marca Questa è un mix station Eh si ma io ho dubbi sabbio caso No e ho acqua a sloia Ecco ti devi passare solo quello che ti si può fare Mamma mamma Dibidia è sabbia E con questo abbiamo concluso Grazie dell'attenzione e arrivederci Bella raga!